Quando è che siete entrato in contatto con l'Air Max per la prima volta? Favolose le 90. All'epoca io ricordo il primo modello, quello nero-bianco. Probabilmente era un saldo. Sono comodo, sono buono, bel colore. Il primo è quel caso di speciale, di nuovo, è vero. La strada è tua, stai pronto al sorpasso. La storia è tua, fai il prossimo passo. Intanto vi sto bombardando, non so se vi accorgete. Ognuno di noi è unico nella squadra. È più importante di fome e successo, e la rivoluzione rende a te stesso. Be the revolution of you. C'è qualcuno di nuovo che è per caso milanista. Non ci può essere perfetto. Perchè? C'è qualcuno di nuovo? Io, la storia è per l'anno.